Tra le strade di Londra Signori buonasera, benvenuti, come state? Che si dice? Che fate? C'è un uomo che parla alla sua comunità Tutti gli italiani possibili, in qualsiasi parte del mondo È forse un predicatore? Se realmente valete, realmente diventerete qualcuno O è il nuovo Funari? Londra non è facile, io voglio che questa cosa vi sia ben gialla ragazzi No, è quel Don Rosario Una volta imparata la lingua Una volta fatta esperienza lavorativa qui in Intera Non pensate alle persone che provocare tutto Se volete avere 8000 vizi, se volete uscire tutte le sere a cena Se volete ovviamente fumare e fare tutto il resto E' oma dovete veramente buttare il sangue Non pensate di venire qui a uscire tutti i giorni Io personalmente esco una volta ogni settimana Ogni uccisione, se mi va bene Ragazzi sono partito qui senza alcun livello di un mese Con un piccolo budget, con tant'idea di fare e di lavorare Ragazzi questo è un'issima soddisfazione Sono stressato e sono ancora stressato A presto, a presto, a presto, a presto Adesso la mamma e il papà È un altro Funari Non voglio spronarvi Non spaventarvi Siete proprio dei polli Allora, ciao a tutti e bentornati a Castel London Oggi sono in compagnia di una persona Che praticamente è diventato una sorta di punto di riferimento Per le persone che abitano qui a Londra Perché? Perché da un po' di tempo Poi andremo a scoprire da quando Ha cominciato a postare dei video In cui racconta la sua esperienza qui a Londra Ed ha anche dei consigli a delle persone Che vogliono venire qui o che abitano qui a Londra Insomma, sono in compagnia di Rosario In arte, quel Don Rosario Ciao Salve, salve e buonasera a tutti Buonasera a tutti Allora io, come direbbe il mio psicologo Devo subito tirare fuori la mia ansia Perché così da qui in poi andrà tutto bene Nel senso che ovviamente Sono un po' in ansia perché Quel Don Rosario è seguito qui a Londra Giusto? È abbastanza, così dicono Nel bene o nel male Eh, vabbè ma perché Cioè tipo diamo dei numeri Delle visualizzazioni su che siamo Guarda, attorno penso a un totale di 140.000 Tipo In 20 video Cavolo Allora, ok Questo è giusto per dare un'idea Prima di parlare di Don Rosario Voglio parlare di Rosario Ok Si buono Si buono No, nel senso Io voglio capire Tu quando sei arrivato qui a Londra Quanto tempo fa Perché? Da dove vieni? Insomma Raccontami un po' di te Vabbè Allora Io sono napoletano Mugnano di Napoli con precisione 26 anni Sono arrivato qui Circa due anni e mezzo fa A Leighton precisamente È stata una sorta di Strano Perché comunque sono Andato Sono Sono arrivato a Leighton Ho visto un po' la situazione Una settimana 15 giorni Mi sono trovato abbastanza Strano Diverse complicazioni È stato comunque abbastanza Difficile adattarmi E non avevo comunque Quella mentalità E quello spirito Di volermi comunque Trasferire Giusto quella cosa di Ok andiamo lì Due anni e mezzo Circa tre anni fa Andiamo lì E scopriamo Londra Vediamo com'è Perché ho sempre amato Londra Quindi Sono arrivato lì E Vedendo un po' la situazione Mi sono organizzato L'ho studiata bene Quindi nel frattempo Sono ritornato a casa Mi sono fatto un'esperienza Di sei mesi fuori Dove sono andato In un villaggio turistico Per apprendere anche l'inglese Perché non ho avuto Queste grandi Basi scolastiche sotto Appunto E dal niente Da zero poi Fatto questo percorso Sono Andato Sono arrivato Qui a Londra Saranno oramai circa Un anno Un anno e mezzo Più o meno Non so ora Precisamente E Da lì Partendo poi da zero Sono arrivato qui Senza Alcun inglese eccezionale Un minimo budget Pian piano Vari app Vari siti E tutto il resto Mi sono informato Ho trovato lavoro E da lì Poi ho iniziato La mia carriera E tutto il resto Ma Tu quindi perché Hai detto Lascio Napoli E vengo qui a Londra Aspetta una cosa Ma Leighton Ma è una cittadina Che cos'è Leighton Leighton si trova Sulla central line Perfetto Figura di merda Vabbè così Vabbè Ho capito benissimo E tu Il resto quindi Perché hai lasciato Napoli Un anno fa E Bellissima Per quanto possa amarla Nel mio caso Ok Voglio specificare Questa cosa Non mi ci trovavo bene Nel viverci Nella mentalità E soprattutto Perché purtroppo Il futuro Comunque a Napoli È abbastanza limitato È quello Non si può ambire A tantissimo Soprattutto se non si hanno Scuole adatte Quindi Da lì Avendo studiato Un bel po' Londra Avendo fatto Questa esperienza Fuori da solo Avendo comunque Una certa Maturità Oddio non ne ho 40 Però comunque 26 anni Mi sono sentito Abbastanza pronto Per scappare Andare via di casa Comunque E affrontare Una vita da solo All'estero Quindi con giusta dose Di maturità Esperienza E tutto il resto Sono partito Sono arrivato qui E Da lì poi Pian piano adesso Stiamo andando Verso il manager Ma tu cosa facevi A Napoli E in pratica Lavoravo Anche Visto che La mia famiglia Ha delle attività Delle aziende Di metalli E ferro Ho lavorato Anche mio fratello Poi Ho lavorato sia Con mio fratello Ho lavorato sia Con la mia famiglia E ho fatto poi Anche tantissimi lavori Nonostante tutto Comunque Ma Il problema è che Io non volevo stare A Napoli Io nonostante Stavo bene Comunque Vivo a casa Con mia madre Casa nostra Non avevo spese Lavoravo Quello che comunque Prendevo Lo prendevo per me Stavo bene Non è che mi ci potevo lamentare Però non avevo Quella sorta di futuro Che mi piaceva Quella visuale del mondo Che mi piaceva Ti stava stretta Mi stava Ho capito Ho capito E invece il tuo inizio Qui a Londra Com'è stato Cioè tu cosa hai fatto Che lavoro hai fatto Qui a Londra Sono arrivato qui E sono entrato Direttamente In questa compagnia Da qui Non me ne sono più andato Ok Se vuoi Che si può dire compagnia Ovviamente È famosissima È famosissima È famosissima Lavoro Come Molti di loro Magari Non sapranno Perché questa cosa Non l'ho detta Inizialmente Scup Scupone Mamma mia Torba Lavora Fabra Comunque Lavoro Nella compagnia Del McDonald's Non vi dico dove Non vi dico dove Per tanti vari motivi Le gruppi Vengono tutte lì A trovarti Per tante Belle esperienze Anche Ma anche brutte Tra parentesi brutte Oddio Mai è successo Nulla di male Fortunatamente Ecco spero Che non mi succeda mai Però stando al lavoro Comunque Non potrei dare tempo Avere tempo Questa cosa Mi dispiace Mi voglio focalizzare Direttamente sul lavoro Quindi Lavoro Nelle compagnie Del McDonald's Da lì sono iniziato E ve lo dico Con molta tranquillità A lavare a terra Oltre a non avere La minima Cosa La minima idea Dell'inglese Se non Ciao come stai E da lì Man mano Sono passato in cucina Man mano Ho appreso l'inglese Ho fatto studio E tutto il resto E A breve Diventerò Manager Mi hanno già promosso Ho già completato I libri E tutto il resto Mi mancano qualche corso Qualche esame Qualche test online Perdonatemi E un esame finale Quindi un mese Un mese e mezzo Poi diventerò Un manager Della compagnia Bravo Grazie Grazie Ma perché Bisogna pure fare Degli esami Per fare il manager Non sapevo Sta cosa Libri Esami E mamma che dice Contenta Che diventi manager Abbastanza contenta Sì diciamo Che è abbastanza contenta Senti nel frattempo È partita Tipo una ventra Non so qua Do questa notizia Perché non so Che è partito Però va bene Noi andiamo avanti comunque Sì Allora Arriviamo quindi adesso A Il motivo per cui siamo qua Cioè Quel Don Rosario Come è nata questa cosa Allora Questo è un altro segreto Un altro scuppo Scuppone Scuppone Ok In realtà Molti di loro Penseranno Che sia un nome Così Con coincidenza Difatti Però dovete sapere Che io rifletto E penso sempre A tutto quello che faccio E dico Nella mia vita Allora In realtà Io Non ho voluto mettere Il mio nome e cognome Perché voglio riservare Una certa privacy Diciamo Alla mia vita privata Quindi Ho deciso Di mettere il mio nome Che è Rosario Reale E In realtà Don È collegato Alla mia data di nascita E ce l'ho anche tatuata Sul braccio D.O.N È vero Prova 10 8 90 La mia data di nascita Da lì è nato D.O.N Per non essere chiamato Don Rosario Il prete del Web Sembrava proprio Una cosa assurda Ho pensato Come è fantasticare Un po' il nome Quindi è nato Quel Don Rosario Io pensavo fosse Una cosa Legata alla mafia No Perché Conosci il Bunga Bunga E c'è il Don Io pensavo una cosa così Invece è completamente Un'altra roba Sì Completamente un'altra roba Pensate E questa è uno scoppone Perché mi sa Che non si sapeva Nessuno lo sa Perfetto Non ho mai detto Quindi questo è il nome Però Proprio il primo video A quando risale Allora Ti spiego In realtà Non è nata La cosa come video Io inizialmente Ero esposto Su vari gruppi Ero iscritto Su vari gruppi Una persona normale Tranquilissima Come tutti noi Da lì Visto che Molte persone Volevano essere Realmente aiutate Ed io non capivo Il perché Venivano presi Poco in considerazione Se non Sai Facevano la battutina A chi Come Si potesse vincere qualcosa A un mongolino d'oro Sempre la battutina Più divertente E mai Quindi venire aiutata Quella persona Mi è nata quella cosa Di dire Iniziamo a fare dei post Visto che io ero Molto informato A riguardo Visto che Comunque vivevo Già da un bel po' a Londra Iniziamo a fare dei post Dove Realmente Cerco di aiutare Le persone Da lì È nata questa cosa Da lì Ho iniziato a fare dei post Su vari gruppi E ho notato Che molte persone apprezzavano Mi seguivano E mi scrivevano Per evitare Questa cosa Del privato Ho iniziato Poi A fare Delle live E Più che altro Non per evitare Questa cosa Del privato Adesso Vi spiego Il tutto bene Ho iniziato a fare Delle live Perché ho notato Che mi arrivavano Molti messaggi E Visto che Non avevo tempo Realmente Per rispondere A tutte le persone Perché ho davvero Del tempo limitatissimo Studiando E lavorando E tutto il resto Ho iniziato A fare Delle live Su Un particolare Gruppo Sempre di Italian A Londra Però adesso Precisamente Dovrebbe essere Questo il nome Non lo ricordo Comunque non lo pubblicizzo Non voglio pubblicizzarlo Non so se vuole Quindi evito Questa cosa E vi dico Che mi sono anche Cancellato Vi dirò Che mi sono anche cancellato E non era finita Appunto non è finita Abbastanza bene Perché Iniziavo a fare Delle live Da lì E Molte persone Che mi seguivano Appunto sia nel bene Che nel male Iniziavano a vedere Iniziavano a vedere Iniziavano a vedere questa cosa Che mi seguivano molte persone E non so per quale motivo Ci hanno raggiunto pure 100 persone in live E Non so per quale motivo Comunque abbastanza persone Iniziavano comunque Quella cosa di Non so se invidia Non so se gelosia Non so per quale motivo Perché io non ne vedo Visto che comunque Il mio solo scopo È sempre stato quello Di aiutare Principalmente le persone Senza alcun secondo fine E questo è Chi mi conosce Chi mi segue da tempo Lo sa Quindi ho iniziato a fare live E Non faccio nomi Però abbastanza persone Comunque Anche Abbastanza importanti Tra parentesi Nel gruppo Iniziavano a criticare Questa cosa E Qualcuno Cos'è che gli dava fastidio Non so Che io facessi live Che io facessi live Che poi Tutte le persone le seguivano Io ho sempre solo Provata ad aiutare Dicevano che io non Dovevo dare Un Un aiuto Molto più approfondito Dovevo Ma io non Non potevo comunque Dedicare Due ore Del mio tempo Tre ore Del mio tempo Se per fare una cosa Approfondita E fatta bene Tu ben sai Bisogna Metterci tempo Quindi Non potevo Facevo un riassunto Più che altro Della vita di Londra Come trovare lavoro Tutto il resto Come imparare la lingua Che comunque è già tanto Nel senso Di che devi parlare Che ti devi informare Sulle le leggi vigenti A Londra Mi sembra esagerato Forse Perché ti approfittavi Di quella pagina Per tuoi scopi personali Assolutamente no Perché da lì Io non avevo Alcuna pagina Né mi portavo Sul profilo privato Ok Quindi eri tu Che volevi parlare La tua esperienza All'onda Esatto Perfetto Da lì Prima che mi cancellassi Prima che mi bloccassi Che io decisi Di chiudere la cosa Definitivamente Tutte le persone Che mi seguirono Lo so ma perché Non fai più live Lo so perché Non fai più live Lo so perché Non scrivi più Ti vogliamo sentire Comunque Queste cose qua E da lì È nata quella cosa Di dire Lo so ma perché Non apri una pagina Così tutte le persone Certo E da lì Sarà Gennaio Fine gennaio Sì Ho aperto Questa pagina E adesso Siamo A quasi 130.000 visualizzazioni 140.000 visualizzazioni E per quelli Che ancora Non l'hanno seguita Non la seguono Tu di cosa parli In questi Tuoi video Allora Tralasciando I miei pensieri Ok Che possa essere La mia idea O mio parere A riguardo Io principalmente Cerco sempre Di aiutare Tutte le persone Che vogliono Trasferirsi All'estero In particolare Londra Quindi principalmente Sono video Riguardo A questo Ma Per non Limitarmi E dedicarmi Solamente A quello Cerco Anche Di fare Video Un po' Inerenti Anche sul Sul mio pensiero Sulla mia persona Anche Ho fatto anche Ma Su 20 video Saranno circa Due Forse Su alcuni Miei pensieri Barra Stati D'animo Ho capito Forse ho capito Quale Per esempio Quello di te Che cerchi una ragazza Per esempio Diciamo così Che Vabbè Che detta così Sembra tipo Uomini e donne Bravo Bravo Quel video In particolare Che ha raggiunto Anche un bel po' Di persone Devo dire Sì È stato Criticato Molto Perché appunto Molte persone Non hanno capito Perché ma Più che altro Magari Colpa mia Colpa loro Non Non so Il problema Il problema è che Tramite Un video O tramite Una radio Tramite È difficile Poter capire Realmente Realmente Una persona Soprattutto in un video Di 3-4 minuti Certo Quindi avendo Più tempo In questo caso Come abbiamo Adesso noi E in più Vi consiglio A seguire Comunque Ragazzi molto simpatici Vediamo se ti ricordi Il titolo del programma Anche te lo ricordi Brutta figura Va bene Dillo Castel London Io mi chiamo Matteo Castellino E sto a Londra No ma senti Però per esempio Quel video Tu sintetizziamo Il pensiero Cos'è che dicevi Giusto per Contestualizzarlo Allora io in pratica In quel video Volevo dire Ragazzi Io sono 26 anni Oramai Agosto 27 E è da un bel po' Che provo Tutti i modi Mi sforzo A trovare A cercare Comunque a provare Di innamorarmi Di legarmi Ad una persona Ma non ci sono mai riuscito Quindi volevo dire Questo mio stato d'animo E questa cosa Comunque mi rende Un po' triste Perché vorrei Mi rende un po' triste Vorrei comunque Poter trovare E legarmi Ad una persona Però il mio problema Tra parentesi Problema E che non mi accontento Non mi adatto mai Quindi aspetterò Quella Ho capito Quella giusta La donna giusta Però scusami Adesso Con questa tua Popolarità crescente Parliamo di questo tema Ma Non mi dirai Che non ci sono state Proposte da ragazze Interessate Allora Ti dirò La verità Ti dirò Riguardo A quel video In particolare Ci sono state Molte proposte Perché Perché sei stato Molto tenero Infatti E le ragazze Lo apprezzano Infatti Ti dirò Sono stato Molto Molto scritto In quel post In particolare Però Non è che Non voglio Rispondere Ad alcune persone Allora Ti dirò Quando una persona Io mi rendo conto Che merita Io con tutto Il piacere Di questo mondo Cerco di Oltre che incontrarlo Oltre di Aiutarlo Oltre comunque Una chiacchierata Tutto quello che sia Mi fa realmente Piacere Poter Comunque Scambiarci idee Qualsiasi cosa sia Ma parlo proprio In generale Adesso Non voglio dilagare Però molte persone Comunque Criticano questa cosa Che io Non rispondo A commenti Negativi Che vi dirò Barra messaggi Che vi dirò Su Un cento per cento Saranno Un cinque per cento Quindi questa cosa Mi rende molto felice Vuol dire che Viene molto apprezzata Come cosa Però il problema Che io Rispondo A persone Che vedo Che hanno Un certo pensiero Una certa condivisione Simile al mio Ma rispondo Anche a persone Che Possono Non avere Un pensiero Diverso dal mio Ma che sia Costruttivo Questa è la cosa Che mi piace Persone stupide Non rispondo Perdonami la parola Però Vorrei farti notare Come hai evitato Per essere La mia domanda Io non so Credito E seconda cosa Io voglio solo sapere Questa cosa Adesso Sono sempre più Barbara D'Urso Con questa puntata Però voglio sapere Tu hai mai incontrato Qualche ragazza Sì Tan 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 Sì Va bene Non diciamo Cosa è successo Perché non è Proprio carino Però Però Ok Non è andata Assicurare che L'ascolteranno Sicuramente Sarà una cosa Bruttissima Non è andata Diciamo Va bene Non è andata Vuoi dire perché E lo vuoi Quagliere questa occasione Oddio Non Bravissime Loro Ah sono tante Mi metti in imbarazzo No 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 Non voglio Assolutamente È che non Voglio quella persona Voglio essere quella persona Ok Quella persona giusta Va bene Senti Tornando invece Al proprio video Tu come li pensi Cioè nel senso Improvvisati O li pensi prima O come nascono Improvvisati Senza alcun pensiero Senza alcun copione Non ho alcuna cosa studiata Semplicemente Se Mi viene un pensiero Se mi capita un argomento Magari ovviamente Ci rifletto Per non dire stupidaggini Però alle volte Ecco come l'ultimo video Mi piace Anche sul sigaro Mi è piaciuto anche Fare uno scherzo In pratica Dove ho pubblicato Una cosa Che mi ero innamorato Che ho cercato Un post Che ho cercato A tutti i costi Una ragazza E tutti subito Gli italian Anzi gli haters Famuti gli haters No? Gli odiatori Gli odiatori Gli odiatori E Appunto Hanno subito Attirato questa cosa E l'hanno subito Usata al loro Vantaggio Per prendermi in giro Tra parentesi Io ho Che ti hanno detto? Commenti assurdi Commenti assurdi Messaggi privati Ma io sta cosa Da buona volpe Ho aspettato E Il giorno seguente Appunto Ieri Ho pubblicato un video Dove dicevo Che appunto L'avevo preso in giro E loro bianchi Non mi hanno più risposto Sono spariti Sono spariti Sono spariti proprio Abbiamo fatto proprio Una brutta figura Che brutta figura Davvero Sono spariti Perché poi Prendermano in giro Il fatto che io poi Stessi cercando La ragazza della mia vita Non capendo il perché Perché se fosse stato vero Sarebbe stata una cosa bellissima Sì Ovviamente Mi sono anche scusato E perdonato E tutto il resto Comunque per tutte le persone Che hanno provato Ad aiutarmi Perché ci sono state Molte condivisioni Molti commenti Però comunque La persona intelligente Capisce che è una cosa ironica O la persona intelligente Appunto fosse stata vera Capirebbe che Ci servirebbe solamente Ecco Un aiuto Un conforto Una cosa di E non una presa in giro Certo Commentini stuzzicanti Commentini Capito E chi è la Madonna E i commentini Così Capito Per diminuirti Esatto Esatto Fotografie particolari In cui mi mettevano No In cui tipo Mettevano Una Per farti capire Un malizio Con il stanzo Con la parrucca bionda Che tra l'altro È pure un ragazzo Che conosco Quindi magari Laura ha fatto più Per scherzare In amicizia Ma Va bene così Quindi è questa la cosa Va bene Senti Poi gli odiatori Approfondiamo dopo Però capisco Che è una cosa Che insomma Ti dà fastidio La cosa interessante tua Credo È che avendo Tante risposte Tanti ragazzi Qui a Londra Tu hai un po' Il polso Di quella che è La situazione Degli italiani Qui a Londra Giusto E come ti sembra Cioè Che sono i ragazzi Che vengono qui a Londra Oddio Questo è un discorso Abbastanza Allora Ti spiego Molte persone Che mi contattano Io valuto soprattutto Oltre alla persona Valuto l'età Perché È importantissimo La maturità Non va calcolata A seconda dell'età E questa è una cosa Che comunque Ok ci siamo Ma Se mi contatta Una persona Comunque di 18 anni Se mi contatta Una persona Di 26 anni Io già parto Dal presupposto E quello di 26 anni Abbia una maturità Tale E sappia Cosa vada incontro Il ragazzo 18 anni Più che altro È spinto Da quella cosa Dall'idea Di Londra Non è facile Vivere qui Tu vivi qui Lo sai E ci sono Molti sacrifici Molte cose Comunque da fare E io cerco Appunto Tutti i ragazzi Che comunque Mi scrivono O che mi hanno Anche incontrato Per strada Tutto il resto Appunto di Metterci la realtà Senza nascondergli nulla Nel bene Nel male E ovviamente Cerco anche di Spronarli Che comunque L'Italia Raga sta cadendo a pezzi A mio parere Sta cadendo a pezzi Almeno parlo Per dove vengo io Da dove vengo io Per quanto possa essere bellissima Tengo sempre a puntualizzarlo Ma Purtroppo di futuro Senza alcun titolo Senza alcuna spintarella Non ce n'è Quindi Si deve evadere Si deve evadere Ma queste persone Che vengono Se per te Vengono Perché disperate Vengono con un sogno Vengono C'erano persone volenterose O sono Perché c'è questo Un po' Stereotipo Degli italiani a Londra Degli italiani Che sono viziati Che sono pigri Che non ce la vogliono De fare niente E così O non è così Allora Dipende Dipende molto Dalle Dalla mentalità Dalle persone Ovviamente Non voglio fare Un'unica minestra Ecco Però È un buon 40-60 A favore Ecco Perché Perché Cerco di spiegarmi meglio Il problema è che Ecco Sono più spinti Ragazzi All'idea Appunto Di Londra All'idea Di quello che possa essere Londra Ma una volta arrivati qui Affrontare la vita reale Non è facile E quindi Spesso e volentieri Quando un ragazzo Torna All'Italia Quando un ragazzo Barra ragazza Appunto Parla male Di Londra Parla male Dell'esperienza Di Londra Perché non ha avuto La maturità tale Per poter affrontare Una vita a Londra Perché comunque Londra Ragazzi Io credo sia stupenda Sia meritocratica E possa realmente Dare un futuro A chiunque A qualsiasi Persona Possa venire qui Che sia italiana O non Ma È ben Deve essere ben chiaro Questo che bisogna Fare sacrifici E partire con l'idea Di far sacrifici Molte persone Purtroppo ancora Non l'hanno capito Tu che consiglio daresti Quindi a uno che vuole venire Oggi A Londra Dall'Italia Oggi Per il fattore Cambio anche Comunità Tutto il resto Va bene venire E consiglierei Di venire Oggi E non domani Anche con il frattore Brexit In corso Che poi Lo sappiamo Dal 2019 Poi verrà attivata Tante cose Tante voci ci sono Ma Di concreto C'è ben poco Alla fine Poi Si decideranno E si vedrà Questa cosa Per quanto riguarda La Brexit Quindi io consiglio Di venire Adesso Con il cambio moneta A favore E con ancora Appunto La Brexit In corso Ma non attivata Del tutto Quindi con una buona dose Di maturità Voglia di lavorare Di adattarsi Consiglio di venire Adesso Perché poi Con la Brexit Chissà cosa succederà Non penso ci cacceranno Beh mi auguro di no Mi auguro di no Però potrebbe succedere tutto Ci saranno Certo Però tu diciamo A un ragazzo Che viene qui Cosa gli diresti Che deve avere Umiltà Coraggio Cosa deve avere Secondo te Amiltà Adattamento Coraggio Voglia di lavorare Voglia di studiare Bravura Sacrificio Uscire tutti i giorni qui Non credo sia una cosa Che si può Infatti ho visto un video Dove tu dicevi Io esco Io esco Perché poi No È interessante Come dire Anche divertente Perché tu In questi tuoi video Pure Ti incazzi Cioè Ti incazzi Cioè Come dire Vuoi diventare Il nuovo Funari È questo No nel senso che Beh Perché comunque È una cosa che Ti riguarda Quindi da passioni E quindi In questo video Dicevi Io esco Ogni due settimane Se capita Che è una cosa Che capisco benissimo Perché pure io Esco ogni età A parte perché Costa tantissimo E poi perché Non c'è il tempo Quindi questo Per esempio È un esempio Proprio Scusate il gioco di parole Lampante Per dire Comunque qua Più che altro Si lavora Giusto? Si Si deve venire con questa idea Più che altro Si lavora Poi Io sono Il presupposto Comunque che Prima il dovere E poi il piacere Poi ovviamente Io ho Una mentalità Forse diversa Una maturità Forse diversa Non so Pur avendo 26 anni Però io penso Che se si debba Trasferire All'estero All'estero in particolare Londra Si deve venire con quella cosa Di dire Io devo andare lì Devo fare enormi sacrifici Per poi Poterne Cogliere I frutti Esatto Pienamente d'accordo Senti ma tu Quando ti rivedi nei video Che effetto ti fa? Rido Come un matto Non capisco Perché faccio ancora Queste cose Tutto a 26 anni Però Però mi fa piacere Perché appunto Leggere molti commenti Molti apprezzamenti Molti messaggi È una cosa davvero Che mi fa molto piacere Ma domanda tecnica Che però ho visto Anche in molti ti chiedono Si buono Perché sei sempre Di profilo Quando fai video Dici Sto segreto De Fatima Dicci perché Diccelo ora Qua Terzo scoop Vai Allora Vi spiego Come tu Saprai Perché detto questo Lui è in stanza Nella mia stanza Dove appunto Io giro i video Siamo nel luogo del delitto È nel luogo del delitto Prova Va bene Io ho una spina lì Abbastanza distante Dal letto E una spina qui Dietro al letto Esatto Io Dietro al letto È giusto La racconto Sì infatti Abituato nei video Quindi mettendo il caricatore qui Del cellulare Perché io ho il tetto Dietro al letto Ho sempre perennemente scarico Quando torno da lavoro E l'hai visto anche tu prima Dopo una giornata di lavoro Ce lo scarico È ovvio Per girare video Per far sì che non mi si spenga Io devo metterlo a carica Quindi che succede Mettendolo qui Non mi ci arriva Quindi fare il video Mezzo Capito Mezzo Storto Quindi che faccio Prendo Una prolunga Da lì Comunque dall'altro lato Del letto Cerco di allungarlo Fin qui E mi arriva Giusto giusto Di profilo Sta cosa Anche se Devo dire Che è un'ottima Scusa Perché ci sono Dei video Per strada Io faccio Poi Faccio un later Esatto Perché io voglio Essere sincero È una scusa Che mi sono studiato Ecco Però comunque La realtà Mi piace C'è il tuo profilo Voglio fare Il fashion blog La nuova Chiara Ferragni Sei tu Ci tenevo Ecco Questo è uno scoop No Siamo già tre scoop Senti allora Parliamo di cose brutte Le hai già anticipato Tutto questo Lui ha tantissime domande Ho paura No Spero sia buono Siamo solo A un quarto Della pagina che ho scritto No 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 Non mi quista Se dormo qua No parliamo di questi odiatori Vai Allora Sinceramente Quando ti scrivono queste cose A te che effetto ti fa? Nulla più totale Perché io credo Quando L'elemento sia zero L'offensa È quella nulla È una frase comunque Perdonate Ma è la verità Cioè io Lo penso Io do considerazione A una persona Che ha intelligenza Che ha un pensiero Un consiglio Costruttivo Da darmi Se leggo Sei cretino Non faccio La minima Pilla Non mi interessa Assolutamente Non Per quanto possa Ti dirò Sono pochissimi Che mi scrivono Commenti o altro È proprio raro Che mi è successo Però mi è successo Ma hai avuto anche Episodi spiacevoli Di gente che ti ha inseguito Mai O mai Fortunatamente Perché appunto Cerco Di aiutare Il prossimo Oltre di strappare Un sorriso Quindi Fortunatamente Il 95% Delle persone Penso che mi voglia bene Quindi apprezzi Quello che faccia Pur non avendo mai tempo E Quindi Ho avuto Ho avuto Ti dirò Degli episodi In cui delle persone Mi hanno scritto Voglio incontrarti Sì E io l'ho fatta venire Anche a casa Ci siamo presi un caffè Ci siamo divertiti E Senza alcun problema Appunto E Sono Proprio dell'idea Di Viva Proprio La società Vai con la socializzazione Ecco Diciamo così Mi sto anche un po' Balbettando E L'emozione Ragazzi Che siamo su una radio Ragazzi Poi Non ve la sveleremo Ma È un segreto Questo è importantissimo Ma davvero Vi invito a seguire Della seconda Grazie 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 No Senti Ma tu Te lo aspettavi questo successo Che stai avendo O non te lo aspettavi? Sinceramente No Ma Cioè Oddio È successo Mi sembra pure una parolona Però In realtà Io ho fatto Sì e no Sei video Il resto erano live Quindi Avero 130 140 Mila visualizzazioni Siamo quasi a 1000 like Alla pagina È una cosa Che non mi sarei mai aspettato Quindi sì È un successone Perché comunque Sono una persona Semplicissima Quello che penso Quello che faccio Sono così Proprio Una vita reale Non è che mi Non rappresento Alcun personaggio Nei video Questo tengo a precisarlo Però Non mi sarei mai aspettato Tutto questo pubblico Tutti questi momenti Tutto questo successo Ecco Ma da quando Questa cosa è nata Quando diciamo Anche questa sorta di successo Sta nascendo E crescendo Dai video Sì no no Ho capito Ma la tua vita è un po' cambiata? No Per me Nel senso La tua considerazione Adesso Attenzione verso i video Le cose Ma al minimo Gli darai più attenzione Sì Adesso Faccio un po' più attenzione A quello che dico Soprattutto Perché avendo Odiatori anche Avendo comunque Tengo di Tenere un profilo Tranquillo Utile Divertente Ma non troppo Perché cerco di stare attento A quello che dico A quello che faccio Vi dirò Per strada Mi è capitato Appunto Mi scrivono Lo sai ti ho visto E' una cosa comunque Che mi Mi stranisce Perché comunque Cammino Tranquillamente A volte Spesso e volentieri Quando torno da lavoro Stanno senti al lavoro Condizioni Maglione Proprio Maglioncino Casual Così E via Non è che Non c'ho la camicetta Poi Ah quindi tu con nove video Un po' ti metti a posto Dai Dai Dillo 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 Prima Prima vi dirò Prima non lo facevo Prima facevo Live in pigiama Proprio Non si possono Rivedere Questi live in pigiama Mi pare che Una scena Ah va bene Andate a cercarlo Perché appunto Non mi piace Cancellare Fare le cose Cancellare Però Ora ecco Faccio un po' più Attenzione Anche si Sul Sul vestito Perché comunque Devo trovare Quella ragazza Guarda Questa cosa No Mi dice No Perché in realtà Allora Tutto porta a quello E non dico quello Nel senso Quella cosa in basso Ma io Sono anch'io poetico Come te Cioè nel senso Che comunque Tutte quelle persone Che fanno Questa cosa Questa cosa Cioè queste cose Diciamo Artistiche Tra virgolette Molti diranno Non è vero Però secondo me Sono anche cose artistiche Lo fanno Per una mancanza D'amore È vero È vero Cioè per un bisogno Di amore Sì È verissimo No Cioè nel senso È vero È vero Vi dirò Sono Mi repito Una persona Abbastanza Diversa Per il mio essere Non vorrei Appesantire la cosa Né sottolineare la cosa Però Per un passato Appunto Diverso Che non Perdonatemi Ma Appunto Per un passato Diverso Che ho avuto Probabilmente Mi ha portato A Non legarmi A non essere Innamorato Mai Ecco A nessuna ragazza Però Mai dire mai E chi lo sa Magari un giorno Verrà Vogliamo dare il tuo Prototipo di ragazza ideale Oddio Quarta di seno Slanciata Attacco rosso E meno male Parliamo d'amore Bionda occhi azzurri Lo sanno Perché il post precedente Nel video Ho parlato Di una bionda Azzurri Sì sì l'ho visto L'ho visto No Più che altro Tralasciando l'aspetto estetico Ovviamente Serietà Mi interessa molto La persona Il cuore della persona Tralasciando l'aspetto estetico Non siamo I pochi Ovviamente L'aspetto estetico Conta Quindi Mi deve molto attirare Ti dirò Più per la bionda Più per la chiara Cioè proprio Però Ecco perché stai qui a Londra Dai Perché è bionda in Italia Sì e no Sì e no Però Può capitare anche con Certo Qualsiasi tipologia Senti Tornando agli odiatori Tu quindi gli rispondi mai A questi odiatori Ni 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 E dipende Devono proprio toccarmi Proprio in maniera profonda Che devo proprio dire Ok adesso ti devo far fare Una brutta figura Perché spesso Quando rispondo Ho tutti Tutte le persone Che poi mi seguono E mi apprezzano Che appunto Mi mettono Like al commento Che li massacrano Pure loro E mi dispiace Stacosa Certo certo Perché non vorresti Luoghi di scontro Sul tuo profilo Però arrivato a un certo punto Rispondo Ok stai esagerando Ti rispondo adesso E ti metto a posto Perché spesso e volentieri Io dico sempre una frase Resso sempre stupito Da dove possa arrivare O non arrivare La mente umana Wow Mamma mia Adesso Tra un po' Ti chiederà Il bacio per Uggia Ti chiederà Di scrivere le frasi Da mettere dentro No scherzo Senti però Visto il proposito Di odiatori Io ti voglio dare Una grande occasione Dimmi vai Quindi come dire Questo è il lancio Per il mio grandissimo gioco Va E adesso quindi Ti dico Che giochiamo A Caro haters Ti scrivo Così poi stai zitto Un po' Perfetto Abbiamo anche dato prova Del mio canto Adesso Comunque il gioco era Caro haters Ti scrivo Così poi stai zitto Un po' Stai piangendo No allora Ti spiego cosa significa Stai calmo Io Essendo una persona buona Non ho preso Conventi cattivi Dal tuo profilo Ok Che cattività In questa scatolina Ci sono Delle Diciamo Affermazioni Di haters Verso Social star Web star Chiamatele come vi pare E io Ti chiederò Di rispondere A ognuna di queste Affermazioni Va bene Va bene Io tengo a precisare Che voglio bene tutti Haters e non Tanto questi non sono Haters tuoi Non ti senti messo in causa Questo è proprio Voglio proprio appunto Dire a tutti gli haters E non Soprattutto Io vi voglio bene comunque Tutti Mi scrivete o non mi scrivete Io vi voglio bene comunque Esatto Solo questo Tengo a dire Avete un pensiero diverso dal mio Magari non lo condividete Se mi scrivete un commento Una cosa Che sia pensata Un consiglio Una cosa Io l'accetto E vi rispondo Con piacere anche Più ora ci prendiamo Una birra pure Quando vedo proprio Che la cattiveria O altro Lì non rispondo Solo questo Perfetto Vado col primo Allora Questo lo dice Matto 9 E dice Io ti penso spesso Ma quando sono al cesso E Oddio È una sorta comunque Di complimento Ecco Se la voglio mettere Su questo punto Perché È comunque Una prova Di piacere Di apprezzamento Che si può avere Quindi io Posso trasformarla Nel Ok Comunque È uno stimolo In qualche modo Che sia E che ti libera Esatto Esatto Quindi è la verità E comunque Il cesso è il luogo Di pensamento Che si può dire Di culto Cioè Io vado in bagno E penso Poi non sono tu Adesso anche qui Avrò degli haters Per questa cosa Però va bene comunque Allora Secondo Secondo Dice Visitator 92 Sei così brutto Che quando preghi Gesù si mette Su invisibile Che trovo geniale Comunque Darei molti like A questa persona A questo pensiero Che è fantastico Cioè Lo condividi Condivido in pieno E Ha ragione Non so che altro Perfetto Ha ragione Ha ragione Ha ragione Ha ragione Per questo metto di profilo Ma dai No ma non sei brutto Sei un bel ragazzo Simpatico Simpatico Allora Simo 92 Dice Quando Dio Diede l'intelligenza Tu dov'eri? Ero a fare video Ero a fare video Esatto Esatto Perfetto Allora Allora Sai contare Fino a un trilione? Assolutamente Aspetta Allora Prima di parlare Comincia la conta Dice Raki Cattivissima Una persona cattivissima No Assolutamente Se vuoi Posso provarci Però Non avrei Quindi Non sei contare Fino a un trilione Quindi tu parli Che te frega Parli Esatto Vai avanti Allora L'ultimo Paperina Love 4 Dice Bellissima Bellissima Lei dice in tema Sei così scemo Che guardi pure Peppa Pig Oddio Guardare Peppa Pig È Un argomento Molto criticato Soprattutto per i poveri papà Però io vi dirò Non ho mai guardato Peppa Pig Posso ritenerlo un complimento Visto comunque Peppa Pig È famosissima È certo È apprezzata anche Quindi grazie Facci pure un video Con Peppa Pig Invitala nel tuo Sì Magari Posso pensare A una collaborazione A futura Con Peppa Pig Va bene Grazie mille Per esserti prestato al gioco Grazie Grazie Allora Tornando invece A A quello di cui stavamo parlando prima Cioè dei tuoi video Parliamo un po' Del tuo futuro Cioè Tu Che cosa vuoi fare da grande? Il fashion blogger La web star Molti hanno capito questo E pochi pochi hanno capito Che io Lavoro studio E studio Management inglese E lavoro sei giorni a settimana Cinque barra sei giorni a settimana Dieci ore al giorno Quindi A me è abbastanza stressante E Ho già detto cosa faccio prima Comunque Quale campo sono Voglio diventare manager E A tutti i costi Che appunto Dopo tanti sacrifici Ci siamo Quasi riusciti Manca pochissimo Per poi Salire Sempre più di livello Nella vita Per poi aprire qualcosa di mio Non ti nascondo Che vorrei aprire Qualcosa di meno Una tua attività Sì Ma quindi tu non puoi fare La web star da grande? Forse Un giorno magari Io so No non lo so Realmente no Lo sai che ci sono molti Che ci campano Tipo Chiara Ferragni È nata così Perché sei parlando di fashion blogger Di gente che è nata Sì Cioè Sinceramente adesso Dai Dimmi Tu non hai mai pensato Se questa cosa va bene Io magari un giorno Ci posso anche fare due soldi Allora Siamo sinceri Sinceri Dai ormai ci siamo I soldi Non è che farebbero Ne fanno schifo Ok Non ho mai pensato Una cosa del genere Prima Vedendo adesso Questa sorta comunque di Pubblico In aumento costante Pubblico mi sembra Una bruttissima parola Che per me È una community È uno scambio di idee Commenti È una vita Mia personale Che cerco di mettere In mostra Una sorta di blog Una sorta di diario Oltre ad aiutare Tutte le altre persone Quindi vi dirò Ho ricevuto diverse Proposte di collaborazioni E Non ho Anche comunque Un canale youtube E tutto il resto Ma Sto valutando Valuterò Molte le ho rifiutate Perché non mi sento In dovere di Per una manciata Di soldi Perché si parla Una manciata di soldi Attualmente Perché non ho ancora Un milione di like Poi chi lo sa Magari un giorno le avevo Spero E quindi Sottolineo Spero Oddio Un sogno Che comunque Piacerebbe a tutti Ma sono progettato Sulla vita Reale Solida Quindi Principalmente Appunto A sudarmi La giornata Al lavoro E tutto il resto E studiare Sacrificarmi Però non ti nascondo Che Chi lo sa Magari un giorno Se dovesse Accadere Mi farebbe piacere Perché no Sì Allora Anticipo due cose Perché io faccio Letters Ti faccio fare Già il lavoro Sparca adesso Allora due cose Nel senso Perché A parte che secondo me Tutte queste cose Instagram stesso Che tutti noi usiamo Anche Facebook Nascono per un bisogno Di visibilità Che tutti abbiamo Quindi Non ci nascondiamo No Perché Ti diranno È normale Tutti hanno la possibilità Di essere visibili Che male c'è Giusto? Ma infatti E poi Seconda cosa No perché Questa cosa È una cosa che mi ha detto prima È giusto dirla Tu hai rifiutato Tutte queste proposte Che hai avuto Perché secondo te Non erano delle proposte Che Come dire Aiutavano realmente Le persone Dato che comunque Avere visibilità No perché Magari qualcuno potrebbe pensare Eh ti hanno proposto pochi soldi Capito Faccio Letters Non è quello No assolutamente Allora Non mi nascondo La visibilità Ovviamente piace a tutti Va bene Non ci nascondiamo Non diciamo Bugio e tutto il resto Avendo avuto una visibilità In aumento Costante Comunque Ho iniziato a pensare Ho iniziato comunque a riflettere Ho ricevuto varie proposte E Vi dirò Ho rifiutato molte proposte E appunto perché Mi dispiace Perché nonostante comunque La visibilità La cosa che più mi interessa È realmente Poter aiutare E dar verità Alle persone Questa è la cosa Che più mi interessa Poi C'è visibilità Tutto il resto Ovviamente fa piacere Certo Certo Ma senti Perché lo sai che Molte web star Poi fanno film Scrivono libri Cioè tu Faresti mai una roba del genere Oddio Non mi sento in grado Né in dovere Adesso proprio di parnanne Perché si parla proprio di Di cose In un futuro Future Oddio Farebbe piacere a tutti No Fare un film O scrivere il libro Entrambi Programma televisivo Sì C'è tutto Tutto Modello Fashion blogger Fare più piacere a tutti Perché no Però è una cosa Che non penso Minimamente adesso Ne penserò Perché comunque Penso principalmente A mio futuro Poi se la vedo Che comunque La cosa si sviluppa In maniera molto Cerco ovviamente Di riflettere Adattarmi Tutto Magari comprando Una macchina Pure digitale Fotografica HD Sì Fare video con cellulare Non è il massimo Sì Anche se è ottimo Qualità 4K Molti Ma no Già se tu conosci Cameron Dallas Per esempio Sì Sì Sentito È uno dei più grandi Sì 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 Poi ovviamente Ora c'è anche una serie Su Netflix Insomma Sì Eh quel Don Rosario Su Netflix Non è male come idea Suona bene Suona bene Suona bene Senti ma Domanda un po' così Un po' Cuore di mamma Ma mamma che dice Di questo video È molto Molto felice Di Dio Scusami Mi stai fracassando La cuffia Con questi foglietti Perché Allora ti spiego Sono Iniziamo Allora Io ti dirò Io non punto Non ho mai puntato Alla visibilità Nella mia vita Perché Sì Io ho fatto appunto Una pagina Diversa Una pagina separata Al mio profilo privato Io su un mio profilo privato E su Instagram Che potrei sfruttare Non ho fatto arrivare Alcun video Non ho fatto arrivare Alcuna cosa Nulla Zero Che appunto Soprattutto sul mio profilo privato Su Instagram Ho la pagina Perché comunque Ho una sorta di Pratico Su Instagram Sono come personaggio Pubblico Perché ho una pagina Perché ho delle visualizzazioni Ho abbinato il tutto Quindi la cosa È stata anatomatica Però Non ho sponsorizzato Non ho sponsorizzo Ste cose qua E ugualmente Sul profilo privato Perché voglio separare Le tue cose Però ti dirò È abbastanza No È abbastanza Molto felice Molto orgogliosa Comunque di me Di tutto Nella vita Proprio principale Principalmente Scusami E Appunto Per la mia persona Per quello che faccio Per tutti i sacrifici Per tutto quello che faccio E anche per i video Perché comunque Vedi che sono molto apprezzati Molto seguiti Do appunto Non credo di fare video stupidi No 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 Meno male Meno male Quindi Ti dirò È molto contenta Ah Questa è tua mamma Dici che è molto contenta No Ok Già non si fa Non si è fatta preoccupazione Tipo Ma che fai figlio mio Perdi tempo No Perché comunque lavori E fai E fai tutto il resto Insomma Quindi non c'è niente di male Senti ma Tu tornare in Italia Come la vede No Non se ne parla Basta Basta No Definitivo No definitivo Non vuoi tornare più in Italia Assolutamente Magari potrei spostarmi In un'altra Magari Magari New York Magari Australia Magari Svizzera Sì Sì ma Non se ne parla proprio Nell'Italia Non è proprio L'idea che voglio Assolutamente E neanche ti reclamano Cioè nel senso Immagino che ti vogliono bene Però dicono Sì Tu hai il tuo futuro Sì È questo Tu qua ti senti più realizzata Molto 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 Non è un po' l'impressione Per esempio quella che ho io Perché io ho nato È nata questa cosa Perché Sto qui a Londra Racconto esperienze Italiani che stanno qui a Londra Ho fatto il marchettone Anche per il mio programma Scusami eh Ci sta Va bene Però nel senso Io da quando sto qui a Londra Mi sento anche molto più libero Di fare quello che Mi pare Cioè nel senso Mi sento anche più creativo Tu Condividi Egualmente Perfetto Avrei fatto la stessa cosa a Napoli Non l'avrei mai fatta Perché secondo te Mentalità diversa Mentalità diversa Hai paura degli haters napoletani? No Paura No Più che altro che C'è appunto C'è una mentalità Diversa Rispetto a Quella che possa essere Del nord Italia Quella che possa essere comunque Dell'ambiente londinese Della vita all'estero Comunque si parlano di persone Di una certa maturità Di una certa visibilità Di una certa mentalità Napoli Rimadisco Stupenda Non tutti Però comunque C'è chi ha Una maggior parte Anche Di una mentalità diversa Anche Alle volte anche ristretta Quindi alle volte Molte persone potrebbero Non apprezzare Non capire Pensieri Video appunto Che si fanno Ma tu hai avuto qua Ragazzi napoletani Che ti hanno detto Capitano qui a Londra Che ti hanno detto Ma che cavolo Stai a fare No No Fortunatamente no Perché Però appunto Può capitare A Napoli Non l'avrei mai fatto Perché conoscendo La mentalità napoletana Conoscendo Ribadisco Non tutti La mentalità napoletana Non voglio Gettare fango Semplicemente È diversa Dalla mia Da quello che voglio Da quello che mi aspetto Dalla vita Quindi Non l'avrei mai fatto A Napoli Personalmente Qui a Londra Sì Sento più libero Ok Allora Innanzitutto Ti ringrazio E adesso Per gioia Dei tuoi fan Io do Il tuo numero di telefono No scherzo Panico Paura e mezza No quello no Però adesso facciamo Un test di inglese No come va l'inglese Così Malissimo Malissimo No Va abbastanza Fai il manager Immagino Va abbastanza bene Però ti dirò Devo migliorarlo Devo migliorarlo Ancora Moltissimo Però dai Ma anche va abbastanza bene Vuoi fare un discorso Tranquillo Cosa vogliamo fare No Ma che scherzo Ma che sei matto Ma no Non ci voglio De parlare inglese Ok ok Va bene così Io sono sempre Del parere Di migliorare Quindi non mi sento In grado di dire Parlo inglese Bene Parlo inglese Lo capisco bene Parlo inglese Però comunque Appunto sto studiando E studierò ancora Sempre per Poter Ambire a un inglese Eccellente Io guarda Su questo Mi permetto Di prendere il tuo posto E dare un piccolo consiglio A tutti Quelli che ascoltano Perché io per un anno Ho lavorato in un bar Per esempio Poi l'ho lasciato Perché adesso Lo sto studiando E Pensavo di avere Un buon inglese Il problema era Che quando poi Ho cominciato a studiare In questo corso Erano tutti inglesi Io ho fatto What the fuck Nel senso che È completamente Un altro mondo Perché Come dire Nel mondo del lavoro Soprattutto dell'ospitaldi C'è gente Che viene da ogni Dove E quindi si parla Un inglese Anche che è un inglese Un po' Quell'accento Un inglese Che magari non è perfetto Quando poi ti trovi A parlare con persone inglesi Lì senti proprio La differenza Nel senso che devi Dai è giù pesante Quindi il consiglio che do io Così Cercatevi anche Amici Persone Luoghi dove Ci sono inglesi E potete avere modo Di comunicare Fate anche corsi di conversazione Insomma Io mi sento dire questa cosa Condivido Condividi Poi ne fai anche un video Su questo Dopo No va bene Senti allora Quindi Niente Allora ricordiamo Che c'è la tua pagina Facebook Che si chiama Quel don rosario Ormai Che ormai Penso la conosco Ok E niente Grazie per aver ascoltato Vi vogliamo bene Grazie Seguite Matteo Mi raccomando Grazie Grazie Molto gentile E buona serata a tutti Buona serata a tutti Ciao Ciao